Al via Pesgara per la legalità 2023 con i campionati italiani assoluti di 10 km su strada. Si parte domenica 10 settembre alle ore 8.45 da Piazza Italia. La gara organizzata dall'SD Passologico e dalla Prefettura prevede la 10 km agonistica Fidale e la 10 km amatoriale PS. L'evento all'insegna della legalità, della prevenzione e della tutela della salute attraverso lo sport ha visto la partecipazione nutrita di tutte le istituzioni. Un'iniziativa che si inserisce a tutte le altre che stiamo portando avanti in pochi anni e che mira a coinvolgere sia le istituzioni per l'uscita dal palazzo ma a coinvolgere le associazioni e il territorio. Pochi giorni fa abbiamo concluso l'iniziativa del tavolo delle periferie. Quest'anno l'iniziativa di Pescara si qualifica particolarmente perché avrà anche riloranza sul piano dei campionati italiani di atletica e quindi prevediamo una grande partecipazione da parte della cittadinanza, auspichiamo una grande partecipazione. L'obiettivo è sempre quello di coniugare legalità con altri valori come quelli che possono essere trasmessi dallo sport così come l'attenzione al tema della salute. All'interno della manifestazione sarà attivato il 9 settembre il villaggio della prevenzione a cura della Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori che effettuerà gratuitamente visite, test, esami e consulenze per varie patologie. È stata anche oggi l'occasione per consegnare alla Lilt un assegno del ricavato proveniente dalla raccolta fondi della precedente edizione della manifestazione.